uh agatha early looking pretty good spellbreaker lo possiamo passare in teoria tengo sta mano un po' pericoloso lui cambia tre carte pretty good for us pretty good for us che cambia tre carte ci sta il faceless incredibile ci sono rimasto malissimo sì sì faceless by elfin slayer sopra mio ozruk 515 anche gli sono rimasto malissimo ma perché ha il vulcano a viene a proteggerli grazie grazie a cocuto 1994 per il follo benvenuto forse per me starei sempre con il canale di purtroppo gli impegni lavorativi mi hanno portato lontano da twitch in generale ma i vecchi tempi non si dimenticano grazie paso grazie bro gentile cosa sei in vacanza un attimo di tempo libero sei venuto anche nella giornata giusta quella in cui ha attaccato la telecamera nuova e lui gioca rog noi possiamo anche giocare co in iniziare a giocare co in sony il defender in bla 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 accelerare un po no accelerare la sequenza gastro pod arrabbiato lich king arrabbiato lich king si becca una bastardata al lich king cioè io lo prendo perché ha tanto valore però questo qua si piglia il vail fin slayer vabbè paolo d'ercalon 15 mesi long time belle novità del canale vic complimenti grazie paolo vorrei uscire a cena possibilmente io te e guido di nuovo come abbiamo fatto la volta scorsa ti va paolo è da organizzare oppure se vuoi andiamo a trovare io te guido a casa sua una sera ok dobbiamo cercare di organizzarci questo weekend comunque in teoria noi dovremmo far festa in teoria faremo festa in teoria questo weekend raga domenica raga domenica pomeriggio a pranzo si griglia va bene domenica pomeriggio a pranzo si griglia quindi per chi vuoi per chi vuole venire alla grigliata del dojo per piacere mandatevi un messaggio su facebook o su instagram o scrivetemi su telegram quelli che vengono di solito sono chiaramente già invitati paolo è invitato ovviamente vorrei farti una domanda c'entra proprio con herson tu in che modo gestisci ansia panico quando sei in torneo oppure quando stai facendo un esame quando provavo ansia che facevo un torneo avevo un mio rituale andavo a lavarmi le mani con l'acqua calda mi lavavo il viso cercavo di abbassare il battito cardiaco lasciava i polsi sotto l'acqua calda bevo una bevanda insomma nel senso una roba molto easy però una roba molto easy a me piace giocare a herison jones gli da fastidi posso giocare anche a ex qua vogliamo rimuovere vogliamo rimuovere un brutto trade quando vuoi bruce come sai basta un minimo di preavviso vengo volentieri paolo ce l'ho al tuo numero di telefono giusto fammi cercare contatti paolo si ce l'ho al tuo contatto va bene ah nuovo sub in canale grazie grazie de aizen xx aizen uno dei miei personaggi preferiti di bleach quindi non non puoi non essere benvenuto qua da noi grazie bro grazie per la sub benvenuto nel dojo ma noi possiamo anche limitarci a exare sto turno non è bellissimo l'ex però non è bellissimo l'ex lo chiamo ex e lo rimuoviamo pure non lo lasciamo giù andiamo faccia siamo il turno stasera gioca turna si stasera gioca turna ciao dreco me lo guardo torno a giocare quasi sicuramente grazie a tutte le persone che sono in canale che stanno seguendo la live grazie anche a chi ha sabato appreciatee drago grazie per il supporto che in pace e biacuia ti piacciono il mio capitano preferito ovviamente è cucchichi biacuia capitano della undicesima non mi ricordo biacuia il mio personaggio preferito grande vi che da un po' di tempo che ti seguo a mio parere sei il migliore di intrattenere grazie bro sei molto gentile grazie madonna che voglio di venire a grigliata assieme al dojo eh bro lo so è figa la grigliata te lo dico cazzo uno storm no eh a gaticchia l'undice zaraki e allora biacuia di cos'è? della settima? della nona? non è nelle prime quattro biacuia se non sbaglio l'undice zaraki biacuia è della tredicesima ok ma la mia impressione è cambiato qualcosa la webcam certo che è cambiata la webcam che è l'eser? sono super tentato anche io della grigliata raga la grigliata è all you can bring significa che io non vado a fare la spesa la spesa la fate voi colblood perché? no 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 domani esame di maturità ansia mille buona fortuna bro sono ad otto sono quattordici qua ti piglio un vulcano è dorato è bello è grosso fa male mi fa vincere la partita stavolta si è attivato il keleget che bello sto vulcano eh sì è proprio bello bello se non ho ancora sentito l'ultimo ultimo di drake te lo consiglio ovviamente l'ascolterò l'ascolterò sulla sulla devo anche ascoltarmi i singoli la cam sta reggendo va bene la luce è quella buona va bene e viscerate come apertura l'eroy jenkins faccia coldblood è coldblood super step nada tutto qua avalanche avalanche ti fa brutto mickey appena sottoscritto un abbonamento di livello 3 tire 3 out of your mind bra come dice dottor disrespect engage to come che dice grazie sub già fatto una settimana fa ma un po' di supporto al Bic non fa male grazie bello grazie per l'are sub 17 mesi mickey sei in canale da sempre grazie per il supporto al canale sei stra gentile posso continuare a controllare potrebbe darmi una spell per la win potrebbe darmi una spell per vincere la partita looking good ho due domande su questo deck al posto di ozzurk potrei mettere un twilight drake con shadow walk fa più o meno lo stesso effetto ah è vero non ci avevo pensato kikoranium è vero twilight drake ha lo stesso effetto di ozzurk tanta roba cazzo mi fai toccare la vergogna cazzarola è vero che prende battle cry cazzo ozzurk diventa gigante bello figo come mai zola e marine non ci sono zola non c'è perché quando gioco contro agro la peschina early non mi funziona non mi serve a niente funziona poco ho preso sempre poco valore è certo che è rotta quando gioco shadow walk me lo riprendo in mano però sono a bordo vuota però il deck è così streaming molto professionale soprattutto rilassante complimenti grazie ohm grazie bro grazie abbiamo giocato elementale al turno prima possiamo anche giocare l'ozzi possiamo giocare lo shadow walk per far contenti grandi e piccini lo giochiamo è qua bro lockdown con pure con pure quel forked lightning proprio lich king discover due lich king mio signora come lottano come lottano sti come lottano sti sti rogue come lottano lottano grazie wargasm complimenti per la qualità della cam grazie bello era meglio farlo prima al forked così dava la spella agatha però si curava però ha curato un minion se io giocavo prima al forked non avevo clear perché gli curava un minion gioca sprint lotta lotta aia no l'ha curato un minion attenzione value shaman scala e così hai scelto morte apparentemente si i aia 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 Ciao